Buongiorno e ben ritrovati da Daniel della Seta, ben ritrovati per questo appuntamento eh di questo ventitré aprile duemilaventuno un appuntamento fortemente voluto, auspicato e davvero di grande valore scientifico per il quale ringraziamo i promotori l'organizzazione di Aristea e ringraziamo anche per il contributo non condizionante GSK. Vaccinazione dell'adulto, le innovazioni oltre la pandemia, oltre il covid-diciannove e le raccomandazioni della simita. Infatti proprio la società italiana di malattie infettive e tropicali ha promosso questo appuntamento di oggi, un incontro, un confronto che si articolerà attraverso due tavole di alto profilo con importanti relatori che si succederanno nel corso della mattinata e dove sarà presentato un documento scientifico oltre il covid del diciannove come guida alle vaccinazioni per stabilire quindi tempi, priorità, riferimenti anche specifici per ciascun paziente. Andremo anche a vedere da vicino oggi nell'esame quella che è la situazione del paziente anziano, del paziente adulto, del paziente fragile attraverso le varie comorbosità e attraverso anche le nuove terapie vacciniche che si profilano all'orizzonte, in particolare per queste categorie di pazienti. E eh dobbiamo dire che è una riflessione, è una proposta di coinvolgimento attivo che eh viene proprio da questo in questa iniziativa che intende sensibilizzare naturalmente non solo i clinici, non solo le istituzioni, i decisori politici, anche il mondo dei media. Per questo saluto e ringrazio i tanti colleghi giornalisti che sono collegati con noi e che sicuramente faranno fare tesoro delle eh informazioni che verranno fornite quest'oggi in relazione ai temi trattati. Allora sensibilizzazione dinanzi anche ad un'importante in questo momento interlocuzione a livello di tutti gli stakeholder coinvolti con il governo, con le regioni, con le istituzioni, con l'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero. E allora è un grande dinamismo questo. Certo eh abbiamo visto in questo momento i grandi risultati che ha portato la scienza nella creazione dei nuovi vaccini questo in senso più lato e eh in questo momento stiamo confrontandoci su i problemi dati dalla distribuzione degli stessi. Allora è importante auspicare un' unità di intenti che dovrebbe essere trasferita nella pratica quotidiana per garantire davvero il successo nella terapia del singolo e eh la diffusione naturalmente di notizie a volte incontrollate non giova in tutto questo discorso. Quindi è anche una lotta, una battaglia contro eh le fake news, contro le notizie che non hanno una veridicità vera e propria eh come sappiamo fondata che deve vederci a noi mediatori e naturalmente mediatori culturali e tutti i mediatori sociali interpreti e protagonisti nell'informazione quotidiana. Detto questo passiamo subito a introdurre i nostri eh relatori di quest'oggi e subito porto il saluto anche istituzionale del sottosegretario della salute e il senatore professore Pierpaolo Sileri che eh sarebbe dovuto essere con noi questa mattina ma è stato trattenuto relativamente ai temi istituzionali sullo scostamento di bilancio e quindi ci ha inviato un messaggio ringraziandoci molto per l'invito e lui segue in particolare attenzione questa materia e sicuramente eh sarà anche lui eh parte integrante del come decisore politico come ruolo di responsabilità nel eh sottolineare gli aspetti in qualità di medico anche e soprattutto oltre che di sottosegretario che andremo a trattare quest'oggi. Saluto allora eh il direttore della prevenzione del ministero della salute il professor Giovanni Rezza. Buongiorno professore. Grazie per essere con noi. Professor Rezza attiverà adesso il microfono. Ecco. Buongiorno, buongiorno a lei. Grazie per essere con noi. Vaccinazione dell'adulto. Noi è tanto tempo che affrontiamo questo questi temi e lei se ne si è pronunciato da molti molti anni anche attraverso studi e nei suoi diversi impegni e carichi pubblici. Adesso il focus di quest'oggi è relativo proprio all'adulto quindi in particolare al paziente fragile. In tutto ciò è importante ancora vi è più la presentazione di un documento scientifico a cura della simite. In tal senso quale ruolo può anche giocare l'istituzione e che cosa possiamo dire in relazione a questo tema? Innanzitutto ringrazio la simite per per l'invito e anche perché non credo ai miei occhi quando ho visto il programma, anzi il titolo del programma. Ho dovuto leggerlo tre volte dopo chiedere ma davvero non parliamo di covid oggi e effettivamente questa è una grande novità insomma. È un anno e passo, un anno e mezzo che sostanzialmente sembra che le altre tematiche non esistano e che esista solo del covid. È chiaro c'è un'emergenza eh è una emergenza particolarmente eh gravosa come sapere tutti eh tutti quanti stiamo trovati a lavorare molto anzi troppo eh e siamo anche abbastanza stanchi. Penso che siamo anche stanchi di sentire parlare solo di covid no? Anche mediaticamente sinceramente è una eh è una estenuante ehm cronicità eh questa del del invalzo eh di notizie quotidiane. Quindi vedere eh affrontare eh un tema diverso è quasi è quasi una volta tanto un soldiero. Eh anche perché eh ricordiamoci insomma eh il non è che a causa delle epidemie siano scomparse le altre problematiche. Anzi le altre problematiche si sono acuite molto probabilmente. Noi l'anno scorso a proposito di eh vaccinazioni non covid eh l'anno scorso intorno alla metà del duemila e venti facemmo una indagine eh con eh chiedendo alle regioni se eh effettivamente le vaccinazioni sia quelle dell'infanzia che quello quelli dell'adulto sono state trascurate o meno. Eh e eh se eh il personale qual è il vuoto di personale dedicato alle vaccinazioni di routine chiamiamole così eh era stato fosse stato eh distorto diciamo dalle proprie attività per andare a coprire i buchi eh relativi alla ehm risposta al covid. E in effetti il quadro non fu del tutto confortante perché molti dei eh molto gran parte delle persone soprattutto in alcune regioni impegnato eh sulle eh vaccinazioni nei centri vaccinali eh era stato adibito a fronteggiare le epidemie naturalmente eh è normale eh anche giusto che sia avvenuto è anche vero che abbiamo dovuto far fronte a questo con assunzioni eh un programma di assunzioni speciali che ha rinforzato soprattutto i repartimenti di prevenzione delle aste che sono quelli che si sono trovati dopo a fronteggiare insieme naturalmente ai reparti ospedalieri il grosso del carico dell'infezione della e della malattia. Per quanto riguarda eh le quindi le vaccinazioni dell'adulto noi sappiamo da dal calendario della vita in poi sono stati fatti grandi passi in avanti. Il calendario della vita ricorderete poter lanciarlo ad alcune eh società scientifiche qua. Il ruolo delle società scientifiche può essere molto importante quando si fanno quando fanno da propulsore per eh iniziative che dopo eh le istituzioni possono eh raccogliere e il ehm il piano nazionale vaccinale eh di prevenzione vaccinale duemiladiciassette duemiladiciassette duemiladiciannove proprio ispirato a quel calendario della vita anche se non lo ripreso di cure chiaro però qual era il ehm la trama eh alla base di questo nuovo piano di prevenzione vaccinale che non dobbiamo pensare solo alle vaccinazioni del bambino che sono le vaccinazioni dell'ordico ormai eh bensì dobbiamo coprire con la le vaccinazioni tutte le età della vita non solo gli anziani naturalmente ma anche soprattutto gli anziani ma anche eh ma anche gli adulti. Eh chiaramente a causa dell'emergenza eh covid nel duemilaventi non abbiamo potuto rinnovare quel piano che resta però valido è stata che è stata una proroga quindi è in progresso sostanzialmente è stata data una proroga al ehm al piano duemiladiciassette duemiladiciassette duemiladiciannove devo dire che è forse il più bel piano che abbiamo in Europa se non addirittura nel mondo sono i vaccini sono eh offerti all'interno dei LEA quindi gratuitamente attivamente per cui è chiaro che qualora quel piano se quel piano venisse ehm del tutto ehm se ci fosse un'aderenza diciamo al piano eh totale avremmo veramente eh fatto eh fatto molto eh è chiaro che comunque sia qualche riducco ha fatto cioè per fortuna la tecnologia che abbiamo a disposizione per quanto riguarda i vaccini eh tende a migliorare di anno in anno abbiamo visto col covid insomma in un anno abbiamo avuto dei vaccini efficaci a disposizione più vaccini che sfruttano più piattaforme tecnologiche diverse quindi la tecnologia è là si possono fare i vaccini più efficaci più eh sicuri anche i piani vaccinali vanno naturalmente rinnovati e adeguati al progresso eh al progresso scientifico e eh tecnologico però quel piano rimane secondo me una delle cose migliori che la sanità pubblica italiana abbia comunque fatto e abbia a eh disposizione naturalmente adesso eh si sta lavorando per eh aggiornare il piano duemiladiciassette duemiladiciassette diciannove probabilmente diventerà un piano triennale sempre duemiladiciassette 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 molto eh molto probabilmente è chiaro che quando si pensa al paziente adulto si pensa innanzitutto all'anziano ai pazienti fragili all'anziano in modo particolare eh la criata dell'anziano sappiamo che abbiamo dei vaccini a disposizione non solo contro l'influenza che può parlare è un vaccino storico quello contro quello anti anti-influenzale eh e eh qualcuno dice ma gli vaccini anti-influenzali non sono molto efficaci dopo spesso c'è questo eh problema di un mismatching tra i virus selvaggi, i virus circolanti, i virus vaccinali per cui l'efficacia varia eh l'efficacia in pratica l'effetto in essere al 30 al 60 per cento però sapere cosa vuol dire è che io voglio proprio andare sul limite inferiore un'efficacia del trenta per cento ma sapere quanti sono i migliori quanti sono i casi di influenza ogni anno quest'anno per fortuna sono stati pochi grazie alle misure anti-covid ma normalmente noi abbiamo da tre, quattro, sei, sette, otto milioni di casi di influenza evitarne anche anche il trenta per cento di un anno di mismatch fra i due virus vuol dire evitare centinaia di migliaia di eh di casi e far risparmiare troppo anche alle gasse dello stato. I vaccini non sono mai una spesa. I vaccini sono una spesa che è ampiamente ricompensata dai guadagni che otteniamo non solo perché salviamo vite, evitiamo casi, evitiamo però giorni di assenteismo eh lavorativo eh e eh evitiamo ospedalizzazioni, uso e misuso, cattivo uso di antibiotici e di altri eh e di altri abuso di altri farmaci quindi eh alla fine anche dal punto di vista meramente economico la vaccinazione e la vaccinazione anti-influenzale in particolare è comunque sia eh un qualcosa che va in bilancio in attivo. Eh abbiamo più vaccini ormai contro eh contro lo zoster che qualcuno dirà beh non si muore di zoster ma zoster è una malattia pesante lo sappiamo anche per le sue conseguenze a medio e lungo termine eh abbiamo dei vaccini altamente efficaci contro il pneumocopo e altri sono eh sono allo allo studio perché anche in questo caso le tecnologie migliorano e c'è un miglioramento nei confronti anche che riguarda i vaccini. Dopo ricordiamo ci sono vaccinazioni dell'adulto che non vanno trascurate ci sono i rigiani i dosi booster di antilipto la pertosse anche una memoria ehm la memoria immunitaria nei confronti indotta dalle vaccini antipertosse molto eh molto in genere molto breve quindi ci sono tanti vaccini che vanno fatti eh e eh se vogliamo parlare dell'adulto dovremmo parlare anche dell'HPV eh perché insomma stiamo nella fascia adolescenziale è qualcosa che va a proteggere dopo eh gli adulti perché l'infezione da HPV ha conseguenze eh a me di a lungo termine che possono essere distrosse ricordiamo abbiamo abbiamo ancora i dati quiciati quest'anno di copertura dello scorso anno sappiamo che le coperture alcune coperture vaccinali però già questo posso probabilmente anticiparlo soprattutto quella contro l'HPV stanno molto soffrendo soffrono di meno le vaccinazioni quelle dell'infanzia le vaccinazioni l'obbito anche l'attenzione a scuola anche se le scuole un giorno sono in uso un giorno sono aperte si devono comunque sia portare loro devono avere il certificato per entrare ma per quanto riguarda le vaccinazioni invece dell' adolescenza della ed adulta eh degli anziani queste potrebbero soffrire molto forse un po' meno quella del primo blocco ma potrebbero soffrire molto eh a causa della eh dell'attuale eh pandemia quindi ben vengono iniziative come questa da parte di società scientifica molto importante non parlare solo di di covid lo dice uno che il 99,9 per cento del tempo lo impiega lavorando sul covid però è importante anche eh non dimenticarci che la prevenzione eh è essenziale che quando parliamo di prevenzione parliamo anche di screening e soprattutto di vaccinazioni e lì dobbiamo eh sicuramente non scontare dei ritardi a causa degli altri impegni che ci eh che ci assidano quotidiano. Quindi grazie per l'iniziativa e vi auguro un buon lavoro. Grazie, grazie molto ai professori Rezza anche per aver sottolineato il ruolo delle società scientifiche e con orgoglio aver messo l'accento su un piano vaccinale che che lei considera anche nella sua aggiustamento prossimo come uno dei migliori d'Europa. Allora tecnologia e sicurezza, adeguamento e progresso scientifico sino abbiamo detto al piano che dovrebbe coprire l'anno duemilaventitré lei ha detto una frase molto significativa i vaccini non sono mai una spesa anzi sono di fatto un vero e proprio eh guadagno possiamo dire in quanto eh permettono minori ospedalizzazioni, minore utilizzo degli antibiotici e quindi un guadagno eh ovviamente un vantaggio dal punto di vista economico. Lei ha detto un bilancio inattivo vorrei coinvolgere il professore Andreoni proprio sui temi che abbiamo finora affrontato in qualità di direttore scientifico anche della società italiana di malattie infettive e tropicali. Buongiorno professore. Buongiorno buongiorno Daniel, buongiorno a tutti. Allora abbiamo ascoltato eh questo eh inquadramento anche generale del professor Rezza ma dal punto di vista anche eh della società. Perché questo position paper questo consensus si è reso davvero importante dobbiamo dire in un eh esame di una fetta ampia della popolazione come quella adulta in particolare fragile che può soffrire di diverse comorbosità e quindi che rende vulnerabile sensibile sicuramente a questo tema. Allora tutto questo si spiega secondo quali principi e quali riflessioni che voi avete condiviso? Ma io innanzitutto ringrazio il professor Rezza perché tra le tante cose interessanti e giuste che ha detto quella anche di ricordare che le società scientifiche devono avere un ruolo all'interno della sanità pubblica come pungolo per stimolare delle discussioni e avviare dei processi diciamo e questo nella società scientifica di malattie infettive da diversi anni e noi stiamo discutendo e sentiamo la necessità all'interno dell'attività giornaliera che facciamo di rivolgere l'attenzione al problema delle vaccinazioni nell'adulto che sono ovviamente considerate come ha detto giustamente eh il professor Rezza all'interno del piano nazionale vaccini però in realtà quello che è la visione che noi abbiamo personalmente e giornalmente è quella di vedere una serie di eh categorie di pazienti fragili affetti da comorbosità in cui il piano vaccinale dovrebbe in qualche modo individuare all'interno delle singole categorie problematiche diverse diciamo eh su questo ne abbiamo parlato anche a lungo con il presidente Talio che in questi ultimi mesi si è molto prodigato proprio sull'idea di sviluppare all'interno della eh della nostra società un avviare un discorso proprio su sul problema delle diverse fragilità in un mondo diciamo quello della sanità pubblica che ha fatto degli avanzamenti incredibili negli ultimi anni e e questi avanzamenti inevitabilmente si traducono in soggetti sempre più fragili no? Cioè i progressi incredibili in campo oncoematologico nel nel campo della della trapiantologia ma potremmo elencare mille discipline nelle quali evidentemente in questi ultimi anni abbiamo fatto dei progressi tali per cui malattie ritenute mortali fino a poco tempo fa anche con un tasso di letalità eh spaventosamente alto sono oggi curabili ma evidentemente tutto questo appunto si porta presso delle fragilità ecco quando la fragilità si va a a incontrare con il problema della vaccinazione diventa un problema molto complicato per cui capire all'interno di singole condizioni eh quali siano le malattie che possono essere in qualche modo più salienti per quel tipo di popolazione e quali possano essere gli interventi di di vaccinazione che debbano essere fatti ci è sembrato e ci sembra un argomento di grandissimo interesse allora per far questo abbiamo pensato di eh di produrre un position paper cioè di produrre un direi un primo se 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 mi permettete un primo un primo lavoro che serva in qualche modo di stimolo ad avviare una discussione all'interno appunto della vaccinazione delle popolazioni fragili adulte diciamo eh per far questo io la ringrazio pubblicamente abbiamo utilizzato anche la competenza eh della dottoressa Sticchi che si è sempre interessata diciamo di questo argomento quindi la nostra società sia voluta inevitabilmente giustamente anche aprire e lo farà ancora ulteriormente perché questo campo della vaccinologia ovviamente è un campo in cui ci sono tantissime variegate competenze e credo nelle quali bisogna anche inserire delle competenze eh specialistiche che noi spesso non consideriamo all'interno della vaccinologia no? Parlavo prima degli oncologi, degli amatologi e quant'altro ecco noi siamo abituati all'interno dell'ospedale ad affrontare con loro il problema eh delle infezioni in questa tipologia dei pazienti e inevitabilmente il discorso cade sempre sulla prevenzione perché la prevenzione è il miglior modo per curare le malattie evidentemente ecco eh e concluderei qui perché poi ci saranno eh tutti i colleghi che entreranno nello specifico però quello che ha voluto fare la società scientifica è stato proprio questo cioè eh mettere a punto un position paper che affrontasse all'interno di alcune categorie caratteristiche che non sono soltanto eh diciamo eh l'età adulta ma è anche l'età adulta declinata all'interno dei dei pazienti con epotopatia cronica con insufficienza respiratoria con malattia renale di oncoematologici in pazienti immunodepressi con i gravi con diversi gradi di immunodepressione devo dire un argomento molto complicato molto variegato nel quale noi credo con questo primo nostro lavoro iniziamo a mettere alcuni punti di discussione diciamo certamente non lo non riteniamo che questo sia un un lavoro conclusivo ma debba essere considerato questo position paper un punto di partenza e questo questo discorso che facciamo oggi tutti quanti insieme credo che debba e voglia stimolare ulteriormente ragionamenti che dovremmo fare in modo multispecialistico diciamo grazie tra l'altro ci ritroveremo tra poco per quanto riguarda la tavola radonda scientifica che seguirà la prima sulle innovazioni vaccinali una sola battuta tutto questo che lei ha detto vuol dire presuppone che vi sarà un nuovo calendario vaccinale proposto ma noi ovviamente non abbiamo la presunzione di dettare calendari vaccinali a nessuno perché ovviamente questo è un compito delle istituzioni noi facciamo quello che ha detto prima Gianni Rezza cioè noi diamo dei suggerimenti e in qualche modo mettiamo l'accento su al su alcuni aspetti che ci sembrano fondamentali diciamo eh quindi la la volontà e il desiderio che effettivamente si possa arrivare a un documento un documento che sia istituzionale che veda il calendario vaccinale anche esteso ad altre popolazioni ad altre condizioni e che sia il più il più ampio possibile perché ha detto giustamente Rezza non parliamo più di covid ma credo che covid una cosa diverse cose ci ha insegnato ma una cosa soprattutto la dimostrata e ce la sta dimostrando in maniera chiara diciamo che la salute di noi tutti passa su quella che è la il senso civico che noi tutti dobbiamo avere di capire che noi tutti partecipiamo alla salute della eh di di tutti quanti diciamo la salute è un problema globalizzato e la vaccinazione l'esempio più chiaro di come tutti quanti noi cittadini dobbiamo avere un obbligo nei confronti dei vaccini per salvaguardare la salute della comunità. Quindi i vaccini come strumento anche in medicina di di precisione nella massima sicurezza come è stato più volte sottolineato grazie intanto professore Andreoni resti naturalmente con noi io adesso inviterei la regia a eh mandare in onda un contributo che apre la nostra giornata di riflessione comune con i tutti i vari relatori e dedicato proprio ai temi che andremo a trattare oggi relativamente ai pazienti adulti fragili anche immunocompromessi che sono particolarmente interessati da quanto andremo a dire oggi prego la regia di inviare questo video introduttivo 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 Grazie a tutti! 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 e abbiamo con noi il professor Massimo Galli direttore malattie infettive tre ospedale Luigi Sacco di Milano nonché dipartimento scienze biomediche e cliniche università di Milano e past presidente della CIMIT. Ben trovato professore buongiorno grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti è un piacere eh ed è anche importante credo che questo tema delle vaccinazioni è particolarmente attuale non soltanto per quanto riguarda la eh vaccinazione anti covid che ovviamente prende eh gran parte della scena per come siamo combinati ora se non vacciniamo alla grande la nostra possibilità di poterci sentire garantiti nelle aperture e le aperture sono già in atto praticamente eh eh molto bassa come tutti i fondi sappiamo. Professore proprio su questo vogliamo parlare con lei lei è sempre stato un grande assertore dei vaccini da tantissimi anni ne abbiamo parlato insieme ma che cosa pensa anche su questo discorso sulle nuove possibilità vaccinali e su un importante anche bisogno insoddisfatto in termini di trattamento e prevenzione per quanto riguarda alcuni vaccini. Quali sono anche le riflessioni che lei può condividere oggi? Come tutti vediamo eh appunto non mi eh lungo ulteriormente sul tema imperativo del giorno che è quella della vaccinazione anti covid ma come tutti vediamo nell'onorai lontana era pre covid già eh sussistevano importanti problemi per quanto riguarda in generale e eh altre vaccinazioni dell'adulto. Delle vaccinazioni della sulle vaccinazioni dell'adulto in questo momento dell'anziano dovrei infaltare sottermarmi per ricordare ad esempio che la vaccinazione antitremococcica era prima di covid ed è a maggior ragione ora in una fase in cui l'attenzione si è completamente spostata lontanissima in Italia dalla soglia ritenuta accettabile, ritenuta eh utile eh di vaccinazione. Quindi la vaccinazione antitremococcica resta uno dei problemi cardine e eh l'augurio è che l'aver messo in piedi la grande macchina vaccinale per le altre vaccinazioni lasci come eredità la possibilità di vaccinazione anti covid lasci come eredità la possibilità di implementare anche questo. L'anno scorso abbiamo avuto una campagna vaccinale stranissima per quanto riguarda la eh vaccinazione anti influenzale anche in questo campo siamo lontani dalle soglie di eh ottimali anche in questo campo avremmo bisogno di un'implementazione perché quest'anno ci è andata bene per molti motivi tra le restrizione ai movimenti e l'utilizzo estensivo della mascherina l'influenza praticamente non c'è stata e l'esperienza da questo punto di vista è stata anche tecnicamente molto interessante. La copertura vaccinale anti influenzale è per quanto riguarda gli anziani e per quanto riguarda le popolazioni fragili sicuramente molto lontana dall'ottimale. Gli ospedali hanno un ruolo centrale credo nelle vaccinazioni dell'anziano nella vaccinazione però soprattutto delle grandi popolazioni ambulatoriali di pazienti con affezioni croniche soprattutto se queste affezioni sono anche quelle che che configurano una eh minor competenza immunitaria. Purtroppo proprio i pazienti che più di altri dovrebbero essere vaccinati eh finiscono per avere una eh tasso via vaccinazioni una copertura vaccinale per per eh influenza assai inferiore dalla rispetto agli obiettivi minimali che pensate un po' dovrebbero essere del settantacinto per cento ma che non vengono praticati per raggiungere mai. Devo dire che più la persona ha una problematica di tipo appunto legata a una condizione di immunosoppressione più la sua vaccinazione dovrebbe essere un fatto assiomatico quindi non c'è nemmeno il ragionamento della copertura del settembre settantacinque per cento che viene che verrebbe indicata per gli ultra sessantacinque. E poi e poi c'è l'aspetto di novità. Quello su cui se mi consentirete eh mi eh permerò un attimo oggi e su cui ho anche preparato al alcune diapositiva. Eh condividendo lo schermo dovreste già vedere le eh il titolo di questa breve presentazione che riguarda la vaccinazione anti-toste. Perché eh mi sto occupando oggi di questo? Beh perché insomma in una storia non breve di ehm trattamento di assistenza dedicata alle persone con infezione da HIV una delle mie frustrazioni è stata non avere a disposizione per quanto riguarda la vaccinazione anti-toste per un vaccino che potesse con eh sicurezza essere somministrato alle alle persone con questa patologia. E lo stesso vale per le persone con artrite romatoide piuttosto che con sclerosi multipla piuttosto che in qualsiasi altra delle numerose condizioni che eh comportano una limitata risposta. Questa è l'incidenza accumulativa nella popolazione generale di cinquant'anni per mille anni in persona della eh manifestazione zosteriana. Come vedete questa è una recentissima eh meta analisi come vedete per l'Europa di cui eh che ha contribuito con un totale se leggo bene di sei lavori a questa eh meta analisi il range dell'incidenza accumulativa per mille anni in persona negli ultimi cinquantenni stava tra il cinque e cinquantassette e nove ottantacinque. In un lavoro italiano si parla dell'otto e novantanove. È interessante sottolineare che eh eh l'incidenza cumulativa e anche eh l'incidenza rate risultava complessivamente più alta nelle donne rispetto agli uomini. Si tratta di numeri importanti, importanti al punto da far decidere le eh assicurazioni negli Stati Uniti di eh somministrare gratuitamente il eh farmac, il vaccino agli ultracinquantenni come eh misura preventiva. Una delle possibili ipotesi in merito alla necessità di una vaccinazione eh riguarda il possibile per quanto discusso mancato challenge della nostra immunità che potrebbe derivare dall'introduzione della vaccinazione antivaricella. Anche l'introduzione anche la vaccinazione antivaricella nel nostro paese almeno non ha raggiunto livelli di copertura ottimali ed è di recente introduzione. Ciò non di meno gli Stati Uniti negli Stati Uniti si suppone che il fatto che ci siano in giro meno bambini con la varicella come conseguenza della vaccinazione riduca la stimolazione degli adulti e conseguentemente li renda più proni a momenti di eh failure a momenti di inefficienza della loro risposta immune che compa che comporta la manifestarsi della eh appunto eh della zona dell'epesostia così come lo conosciamo e che non è una condizione esente da problemi perché eh soprattutto la condizione post tosteriana la sindrome post tosteriana eh eh neuralgia post tosteriana è nota come condizioni debilitante come condizioni che limita in maniera molto significativa la qualità di vita di coloro che mi sono colpiti. Questo è un lavoro che ritorna sulla eh lavoro di qualche tempo fa di un paio d'anni fa che ritorna eh a eh sulla problematica della eh gestione dell'herpes d'oster nel contesto della vaccinazione antivaricella e questo è un lavoro del duemila e sedici che confronta eh due vaccini soprattutto quello nuovo e attualmente eh in eh in prospettiva di entrare nella eh in uso corrente nel nostro paese con una sgradevole ritardo devo dire nel senso che è pronto già da diverso tempo ma per molti motivi non era stato registrato eh in Italia e in una parte dell'Europa continentale ebbene la differenza tra questo vaccino che è un vaccino ricombinante e eh il vaccino l'ivo attenuato a disposizione è una eh differenza piuttosto clamorosa eh se eh la doppia eh somministrazione nel caso del vaccino eh ricombinante di subunità è forse un elemento che non lo avvantaggia rispetto a un'unica iniezione sottocutanea del vaccino vivo attenuato i risultati però novantasette per cento di eh successo complessivo rispetto al cinquantun per cento del successo dell'altro vaccino i risultati sono da vedere e si riflettono anche nelle fasce di età arrivando a una novantasette e nove contro trentasette e sei negli ultrapassettanti. Quindi un risultato davvero clamoroso da questo punto di vista di eh un successo veramente importante. Questa è una meta analisi eh eh attuata scuso per i lavori negli 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 soggetti con più di cinquant' anni che fa vedere abbastanza chiaramente che come il eh eh rispetto al vivo attenuato qui riportato come ZVL il vaccino eh ricombinante con adiuvante ha un annetto successo così come ce l'ha sul placebo mentre il il vaccino eh attenuato vivo attenuato ha sicuramente una performance inferiore. Questo vale anche per tutta una serie di altre considerazioni ad esempio riguardate appunto la eh prevenzione come potete vedere qui dello eh zoster oftalmico. Eh oltre a tutto questo proprio uscito il ventiquattro marzo di quest'anno online eh un lavoro sul giornal al virologi dopo un anno gli eh eh le le sigle cambiano e possono indurre in qualche confusione. Comunque questo è il ricombinante di componenti e questo qua è invece il vivo attenuato. Dopo un anno l'ottant'un per cento di tiri di coloro che ricevono il eh virus eh ricombinanti componenti eh eh solo il diciotto per cento di coloro che eh ricevono che lo scusa eh quello vivo attenuato eh hanno ehm mantenuto più di cinquanta e cinquanta per cento della risposta anticorpale. Eh e questi risultati sono anche eh correlabili eh vanno d'accordo con i risultati della risposta del eh cellulo mediale. Come vi dicevo queste sono osservazioni recentissime come anche assai recenti sono questi dati che eh ti danno un'indicazione su qualche cosa come quattro milioni settecentomila adulti ehm dei quali cento centosettantatremila il tre punto sei per cento hanno ricevuto due dosi valide del vaccino ricombinato eh l'incidenza eh l'incidenza eh l'incidenza rate di Apple toster è risultato essere di duecentocinquantotto punto otto nei vaccinati per centomila anni persona contro ottocentonovantatré dei non vaccinati. La differenza è eh altamente significativa come potete vedere anche dai limiti di confidenza al novantacinque per cento. Compressivamente la efficacia del del vaccino razostera ricombinante è stata calcolata ad essere ottantacinque per cento in questo studio che non è non è uno studio registrativo come vedete ma è una una grande studio di corte su quasi eh cinque milioni di persone dell'ottantacinque per cento con eh una eh ottantasei punto otto per cento nelle persone di età compresa c tra i cinquanta e i settantanove anni eh e l'ottanta e rotti per cento per le persone che hanno invece più di ottanta anni. Nei pazienti che avevano fatto vaccino vivo nei cinque anni prima dell'inclusione dello studio la efficacia del vaccino era dell'ottanta quattro per cento quindi veniva in questo modo essere ulteriormente come dire confermata senza eh ecco molto mi perdoni ma quale beneficio quindi potrà portare questo vaccino? Beh eh se utilizzato in maniera di vaccino ricombinante. Voglioci mezzo dalla possibilità della eh dello zoster io ad esempio eh io mi avvio compiere settant'anni e credo che cercherò di fare questo vaccino. La varicella a suo tempo l'ho fatta e quindi sono certo di albergare virus eh di albergare il varicella zoster virus virus e quindi da questo punto di vista eh facendo questo vaccino mi metterò in condizioni di evitare possibilmente di farmi una corte al tranco e magari di portarmi a presso un periodo anche lungo e fastidioso di neurologia corte tecnica. Tra l'altro una condizione che non ha una vera e propria terapia non è complicata da gestire anche quel del dolore eh il fastidio che comporta. Aggiungo poi che eh questo virus e questo vaccino finalmente è possibile utilizzarlo nelle persone eh con eh quadri che rendono che controindicano in maniera assoluta la l'utilizzo invece di un vaccino vivo attenuato. E qui torno alle persone con infezione d'HIV che hanno nonostante appunto l'efficacia delle terapie un'incidenza ancora eh rilevante di herpes toster però nel momento in cui parlo di questo sto pensando a tutte le persone che non hanno l'HIV ma sono trattate ad esempio per con biologici per una serie di eh che con farmaci biologici per una serie di eh manifestazioni di di patologie autoimmuni bene queste persone potranno trarre dall'utilizzo del di questa vaccinazione un importantissimo beneficio per quanto riguarda una delle manifestazioni più frequentemente associate a una condizione di eh immunodepressione o comunque di minore efficacia risposta immune che sia associata con eh le condizioni in cui sono portatori i farmaci che devono assumere. Quindi da questo punto di vista eh vale la pena di ricordare che è comparso back to back al lavoro sul clinical infectious disease presentato nel febbraio scorso della grande corte che ho presentato un altro lavoro che eh viene fatto che è stato fatto sulla eh sulla vita reale insomma in persone con più di sessantacinque anni in cui si trovava comunque una gran buona risposta eh sia per quanto riguarda eh le persone con più che ottant'anni e sia per quanto riguarda con persone con condizioni autoimmuniche. Finisco con dire che eh due dosi del vaccino hanno hanno una efficacia nei confronti della neurologia posterpetica del settantasei per cento quindi il livello di protezione che possono conferire anche nei confronti di questa più che fastidiosa eh conseguenza della effezione della riattivazione dell'infezione con il virus varicello al costa cioè la protezione che possa poi essere conferita è decisamente rilevante e importante. Ricordo che nel sei mesi, sei, dodici mesi successivi a una manifestazione deuteriana soprattutto nelle persone con patologie autoimmuni e con patologia patogenesi immunitaria in generale eh aumenta la frequenza di anche di fenomeni cardiovascolari tipo stroke e eh cardio o cerebrovascolari tipo stroke e quindi questo è eh un elemento importante e pesante a favore del diffusione e dell'applicazione di questo genere di eh vaccino. Credo di eh aver parlato anche troppo lungo ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Galli anche per aver sottolineato finora il ruolo degli ospitali nelle vaccinazioni dell'anziano e soprattutto all'importanza di raggiungere quella minima percentuale che con difficoltà è stata raggiunta anche recentemente nelle altre campagne vaccinali da ultimo e la notizia oltre al fatto che abbiamo testimonial importante come il professor Galli che eh prossimo ai settant'anni ha annunciato che si vaccinerà anche per l'estero per l'herpes zoster è questo lavoro assai recente per corti e su dati veramente eh di pochissime settimane fa quindi un importante contributo anche speculativo e eh con dati eh reali di straordinaria importanza professore la ringrazio e le auguro buon lavoro e a risentirci presto naturalmente se può fermarsi ancora qualche minuto con noi ci fa piacere grazie davvero bene grazie allora al professor eh Galli per questo suo contributo passiamo allora nel frattempo saluto anche l'onorevole Elena Carnevali che ci ha raggiunto capogruppo PD dodicissima commissione affari sociali camera dei deputati ben trovata onorevole saluto anche poi la senatrice Maria Domenica Castellone della commissione parlamentare di sanità del senato della repubblica e passo la parola alla dottoressa Paola Stefanelli che è direttore del reparto malattie prevenibili vaccinazioni laboratori di riferimento dipartimento malattie infettive istituto superiori di sanità buongiorno dottoressa Stefanelli buongiorno a lei buongiorno a tutti allora volevi innanzitutto con lei condividere alcune eh riflessioni anche su quanto aveva prima eh fatto scena il professor Reza che aveva eh parlato anche delle grandi e prossime minacce come eh le infezioni antimicrobiche in particolare allora quale può essere le chiedo l'impatto anche delle vaccinazioni nel contrasto alle infezioni resistenti agli antibiotici ossia possono aiutarci e quanto possono aiutarci anche i vaccini nel contrasto a quella che viene definita poi l'antitropico stewardship no alle infezioni resistenti agli antibiotici noi tutti sappiamo per esempio che in talune patologie penso a quelle respiratorie che spesse volte sono di origine virale come sappiamo vengono trattate invece con eh antibiotici in una maniera non consona allora in tal senso quali riflessioni possiamo stimolare con lei? Beh eh io direi che il ruolo dei vaccini in questo tipo di eh infezioni è davvero fondamentale eh innanzitutto eh non sono io a dirlo ma sappiamo tutti che appena eh usciremo dalla emergenza di covid diciannove probabilmente ne avremo un'altra che non ci ha mai abbandonato in realtà e che è correlabile appunto all'emergenza relativa ai patogeni ehm resistenti agli antibiotici. Ora mh a per lungo tempo eh non si è investito molto a livello eh farmaceutico di company nel cercare molecole nuove che potessero risolvere questo problema e forse è stato anche un bene visto che abbiamo imparato che nel mondo della microbiologia questo tipo di eh batteri eh riescono a appunto eh manifestare una capacità di resistenza anche a nuove molecole che possono essere introdotte. Dopodiché la tecnologia ci è venuta in aiuto quindi la ricerca e sviluppo di diverse compagnie che producono vaccini eh hanno potuto puntare e contare eh su nuovi approcci nella preparazione e nella formulazione appunto dei vaccini che potessero anche essere utilizzati proprio per contrastare la diffusione dei patogeni antibiotico resistenti. Ne posso citare alcune come per esempio la reverse vaccinology che è stata con successo utilizzata per la preparazione del nuovo vaccino antimeningococco B e che si basa su una tecnologia che in silico va a cercare i geni che codificano quelle proteine maggiormente conservate in un batterio che quindi possono essere considerate dei buoni candidati vaccinali. Dopodiché vengono selezionati questi antigeni, vengono provati ehm nell'animale, nel topo per capirne l'immunogenicità e poi entrano magari una fase di sviluppo. bene, per questo tipo di approccio ehm so appunto nelle pipeline di diverse compagni che verrà utilizzato per esempio per la preparazione di vaccini contro lo pseudomonas piuttosto che contro alcuni ceppi di escherichia coli. Poi possiamo ricordare un approccio che la GMMA e che si basa appunto sull'utilizzo delle auto membrane vescico del di alcuni tipi di 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 patogeni antibiotico resistenti e che possono diciamo essere utilizzati a loro volta come antigeni vaccinali e la cui preparazione è anche piuttosto semplice nell'uso e per questi per esempio si pensa un loro possibile utilizzo contro la scighella o ancora la bioconjugation in cui si utilizzano eh ceppi come quello di escherichia coli ingegnerizzati che eh permettono di produrre all'interno del 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 citoplastico del batterio tutti quegli antigeni che servono alla produzione eh di un vaccino contro un determinato patogeno antibiotico resistente. Non ultimo dobbiamo pensare appunto ai nuovi adiuvanti soprattutto TOC-Live Receptor Agonist che possono aumentare la risposta. Ovviamente ci sono delle priorizzazioni nella preparazione di vaccini eh contro patogene antibiotico resistenti sicuramente tra le priorità dobbiamo ricordare la possibilità di avere un vaccino perché clepsiella piuttosto che per clostridium difficile. Ora però il punto qual è? Noi sappiamo che i vaccini eh vengono utilizzati per una protezione individuale ma anche per un'immunità diciamo del della comunità ma eh bisognerà riflettere su quale sarà il target della popolazione alla quale eventualmente proporre questo tipo di vaccinazione perché non saranno delle vaccinazioni di massa come l'antinfluenzale per capirci ma forse dovranno essere indirizzate verso eh appunto soggetti più fragili o piuttosto eh appunto soggetti che devono essere sottoposti a interventi chirurgici e quindi possono essere in qualche modo sottoposti ed esposti a germi che eh possono appunto essere antibiotico resistenti oppure pensiamo ai germi eh resistenti eh protesici che costituiscono un grossissimo problema nella gestione appunto di un'infezione da germi antibiotico resistente e in tutto ciò eh ovviamente è anche molto importante il ruolo eh dei laboratori di microbiologia per identificare efficacemente batteri che presentino una o più resistenza agli antibiotici e condividere questo dato in ambito di reti di sorveglianza che possano raccogliere efficacemente tutti questi dati e conoscere effettivamente quanti eh batteri antibiotico resistenti e verso quali antibiotici effettivamente sono presenti in un determinato territorio piuttosto che in un ospedale eccetera quindi un'attiva sorveglianza che coinvolge vari attori dalla microbiologia all' infettivologo e non ultimo ovviamente la company che dovrà preparare il vaccino più idoneo per questo tipo di vaccinazioni è sicuramente una strategia vincente in questo senso. Eh dobbiamo anche considerare che eh per esempio è stata citata prima più volte la vaccinazione anti-influenzale ha anche un effetto nei confronti paradossalmente indiretto sui germi antibiotico resistenti perché se ci vacciniamo per l'influenza ovviamente non andremo incontro a quelle sintomatologie che spesso vengono curate eh diciamo ehm dalle singole persone con antibiotici senza alcun effetto perché è una patologia virale voglio dire e quindi c'è una sorta di effetto indiretto anche sulla diffusione eh di eh patogeni respiratori antibiotico resistenti proprio perché la vaccinazione anti-influenzale evita eh un cattivo uso dell'antibiotico stesso. Quindi insomma sono tutte strategie e considerazioni estremamente interconnesse tra loro e che tutte giocano un ruolo nel combattere avere un'efficacia a contrasto di questa che ci sarà una nuova emergenza infettivologica che ci impegnerà moltissimo nei prossimi anni. Professore dottoressa ehm Stefanelli eh in particolare lei ha fatto cenno quindi a eh vantaggi che può questa questa eh possibilità eh aprire anche per i pazienti fragili. Un grande network, laboratori di microbiologia, virologi, infettivologi, naturalmente le compagni. In particolare su quanto faceva cenno anche il professor Galli su determinate tipologie anche vaccini che parlavamo con lui proprio fa dello Zoster e eh vaccino che arriva in Italia adesso e ma che non è nuovo perché è già stato sperimentato negli Stati Uniti, somministrato a oltre trentotto milioni di pazienti. Ecco in che maniera questa questo network può davvero poi farsi concretezza da un punto di vista pratico? Beh intanto nella conoscenza del virus stesso. Allora questo nuovo vaccino che è estremamente efficace è eh di fatto un vaccino eh ricombinante quindi sfrutta proprio le nuove tecnologie di cui parlavamo prima. Eh ha numerosi vantaggi come ha egregiamente descritto prima il professor Galli cioè può essere utilizzato anche in quei soggetti immunocompromessi che sono proprio una delle cause diciamo di suscettibilità all'infezione dell'erper Zoster e ha un'efficacia molto elevata e e soprattutto ehm praticamente azzera la possibilità di avere delle conseguenze anche ehm ehm a seguito della 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 dell' infezione. Ora eh lo studio anche di questo tipo di virus e quindi l'analisi per esempio genomica per comprendere la conservazione di certi geni che codificano delle proteine che sono eh elementi essenziali, gli antigeni principali di questi eh vaccini eh è appunto alla base eh della valorizzazione di questi vaccini in termini anche di efficacia proprio perché vanno a dimostrare una conservazione del gene quindi una conservazione della proteina e la possibilità di essere estremamente efficace nei confronti di vari ceppi che possono circolare all'interno della popolazione. Stessa cosa di casi per lo pneumococco che è stato citato eh precedentemente eh come sapete questa è una vaccinazione che è stata introdotta nel nuovo piano di vaccinazione nazionale già dal duemiladiciassette per i soggetti da sessantacinque anni in su e ehm causa polmoniti eh nell'anziano ma è anche un batterio che è causa di malattia batterica invasiva quindi di meningite di sepsi eh sapete che l'Istituto sulle sanità coordina una sorveglianza per le malattie batteriche invasive e quindi per lo pneumococco oltre che per meningococco e mauxi influenza e quindi avere una raccolta del dato puntuale relativamente alla numerosità di ceppi i loro sirospipi e la antibiotico sensibilità dei ceppi che causano malattia è alla base per conoscere il cosiddetto burden of disease. Grazie dottoressa Stefanelli per il suo contributo e ricordo anche a tutti i nostri eh uditori e che partecipano a questo eh confronto di quest'oggi che possono porre domande attraverso l'apposito eh grafica question and answer domande e risposte e quindi noi le corremo ai nostri relatori e passiamo allora al dottor Roberto Ieraci referente scientifico vaccinazioni ASLE RM1 gruppo strategie vaccinali regione Lazio eh lei dottor Ieraci buongiorno intanto ben trovato. Buongiorno a tutti. È un vaccinologo vero e proprio e eh tra l'altro ha avuto anche un' esperienza diretta con alcuni pazienti relativamente ai temi che stiamo trattando quest'oggi e eh abbiamo affrontato con lei anche quella che è una sintomatologia diceva il professor Rezza che è una malattia comunque importante quella dell'herpes zoster è una malattia che come diceva pure il professor Galli che dà una neurologia posterpetica che incide anche sullo stesso umore del paziente sulla sua qualità di vita allora possiamo con lei analizzare quali siano i vantaggi anche per eh gli over sessantacinque o quindi occorre di fondo lavorare sulle coperture vaccinali che di forse sono non troppo eh numerose su questo aspetto. Come fare allora? Grazie anche alla vostra esperienza sul campo. Bene le coperture vaccinali per l'herpes zoster nel nostro paese sono molto basse assolutamente e in tempi di covid addirittura si sono abbassate. Avere la disponibilità di un vaccino sicuro, efficace, inattivato, adiuvato che amplifica la risposta immunitaria sicuramente ci mette in una posizione di vantaggio. Quindi io come Lazio, come modello Lazio non soltanto efficace dal punto di vista della vaccinazione covid ma anche dal punto di vista come modello di vaccinazione in generale stiamo approntando la possibilità di mettere a disposizione questo vaccino ma con una strategia vaccinale nuova perché poi è importante avere innovazioni in questo campo coinvolgendo in toto e pienamente i medici di famiglia ai fini di una medicina personalizzata. L'herpes zoster è la sua è la sua più grave complicanza che nella nevologia post-erpetica è un vero problema anche perché attualmente tutte le terapie che noi abbiamo sono non sufficienti. Ovviamente questa questo dolore urente terribile della nevologia post-erpetica crea veramente un depressione un alterazione della vita e delle relazioni di questi pazienti. Quindi avere a disposizione un vaccino realmente efficace ma anche molto maneggevole perché per poter essere adoperato nel setting della medicina generale. E questo l'innovazione e la strategia la disponibilità di un vaccino sicuro efficace aduvato a base di glicoproteina e sicuramente garantisce la possibilità di poter raggiungere quelle coperture vaccinali previste dal piano nazionale vaccini ma che in questi anni sono state unicamente un miraggio. E in questo io vorrei aggiungere anche il problema delle vaccinazioni nei soggetti fragili. Noi sappiamo attualmente che i pazienti oncologici, i pazienti trappiantati di midollo, di organo solido, i pazienti aromatici, i pazienti immunodepressi, immunosoppressi, i tassi di immunizzazione in questo target sono veramente bassi. Noi come Regione Lazio abbiamo eh fornito la prima regione italiana una cornice istituzionale finalmente ai centri vaccinali ospedalieri. Perché? Per ovviare a questi bassi tassi di immunizzazione ma anche per facilitare l'accesso ma anche per studiare la tempistica della vaccinazione e il rapporto alle terapie. Questo è un discorso molto importante e i grandi ospedali del Lazio dotati di onchimotologia, di reumatologia, di dermatologia, di ginecologia hanno a disposizione adesso una struttura di secondo livello per poter affrontare in maniera molto tecnica anche per valutare l'efficacia della vaccinazione in questi soggetti. Ritornando al nuovo vaccino e dell'herpes e zostero devo dire devo dire che io ho una certa esperienza anche se non c'era disponibile nel nostro paese attraverso la farmacia del Vaticano io ho vari pazienti oncologici e reumatici in trattamento con farmaci biologici li ho avviati con questo vaccino per poter avere sicuramente un vaccino efficace nei confronti di una patologia temibile. Però ribadisco ancora il concetto i soggetti fragili in questo paese eh non ricevono le vaccinazioni che dovrebbero ricevere anzi sono i soggetti che dovrebbero essere vaccinati più degli altri da questo punto di vista. Eh in questi anni noi come regione ma anche come società scientifiche ci siamo battuti per esempio nel campo della vaccinazione anti-influenzale sul concetto di appropriatezza. Io in questi anni mi sono caduta tante volte le braccia quando singole regioni hanno dato la disponibilità ai medici di famiglia di una sola tipologia di vaccino anti-influenzale a partire dai sei mesi fino a cento anni. Noi sappiamo che oggi è un concetto molto importante l'appropriatezza dei vaccini anti-influenzali perché esistono varie tipologie in rapporto all'età e allo stato di salute quindi dare a un soggetto anziano il vaccino più appropriato che in questo caso è un vaccino adiuvato oppure un vaccino ad alta dose gli permette comunque di essere più protetto con una durata dell'efficacia della vaccinazione più a lungo e e ricordo che l'efficacia protettiva della vaccinazione anti-influenzale dipende non soltanto dalla vaccinazione dei soggetti a rischio ma anche dal percentuale di copertura di tale vaccinazione nella popolazione generale quindi il mio messaggio di solidarietà vaccinarsi tutti per proteggere se stessi e per proteggere anche gli altri. Dottor Iaraci è medicina personalizzata ne abbiamo parlato tante volte insieme come può avvantaggiarsene in tal senso? Ma sicuramente sì ma ecco io ecco perché l'impegno massivo estensivo dei medici famiglia sul territorio perché ovviamente loro conoscono l'anamenis clinica dei loro pazienti conoscono più facilmente le le patologie che hanno in essere e quindi questo dà la possibilità di comunque di poter dare una prevenzione vaccinale personalizzata non soltanto una terapia personalizzata ma anche il concetto fondamentale di una prevenzione vaccinale personalizzata rivolta al singolo paziente soprattutto nei pazienti nei pazienti fragili e altamente vulnerabili. Noi speriamo di poter utilizzare questo vantaggio fornito dall'informatizzazione digitale finalmente noi abbiamo a disposizione i data base di questi soggetti fragili di poterlo utilizzare e riversare su tutte le altre vaccinazioni quindi sulla vaccinazione antipenemococica sulla vaccinazione anti-herpes zostre sulla vaccinazione anti-influenzale ma partendo comunque per tutte le categorie di fragili che hanno bisogno della prevenzione nei confronti di malattie prevenibili dei vaccini. Grazie dottor Ieraci anche per averci illustrato la sua esperienza sul campo con il modello Lazio in particolare sui vaccini indirizzate alle pazienti fragili. Grazie con noi se ne fosse possibile. Eh onorevole Elena Carnevali con lei andiamo ad affrontare anche eh un aspetto che è quello naturalmente delle attività istituzionali volte soprattutto a sottolineare l'importanza di sensibilizzare anche da un punto di vista politico ma da un punto di vista anche della stessa popolazione eh tutti gli interessati a questi temi. Buongiorno innanzitutto e grazie per essere con noi. Grazie davvero al dottor Daniele della seta dell'invito grazie alla simita ad Aristea e grazie davvero per anche questa giornata guardate eh lo dico per l'ennesima volta e ringrazio davvero molto perché alla fine noi dobbiamo parlare di programmazione sanitaria e questo è il punto vero e abbiamo sentito anche nelle parole naturalmente del professor Rezza e eh quanto sia importante una strategia vaccinale efficace una pianificazione e una verifica in particolare dei tassi di vaccinazione della copertura dei tassi di vaccinazione lo sperimentiamo nel periodo funesto che abbiamo attraversato e speriamo di uscirne presto ma eh guardate mi sta molto a cuore quello che abbiamo sentito oggi perché ne ho fatto una battaglia anche politica a partire eh da un lato dal opportunità che il servizio sanitario nazionale offre con queste ulteriori vaccinazioni di cui parliamo oggi che sono state incluse già nel piano nazionale vaccinale a partire dal duemila e diciassette. Devo dirvi come penso molti di voi noi sappiamo che se solo faccio riferimento alla vaccinazione anti influenzale lo dico da operatore sanitario guardate è stato un problema lo è ancora un problema di copertura anche per gli operatori sanitari io spero che questa esperienza eh al di là dell'obbligo ci abbia in qualche modo invigorito sulla necessità di riuscire a mettere in campo ehm anche una politica di verifica di controllo su come eh poi perché è chiaro che eh una strategia a diversi livelli quello centrale che individua le strategie e le risorse diventano livelli essenziali di assistenza le politiche regionali che lo trasformano in programma e poi il livello locale che avviene attraverso la sua attuazione. Noi abbiamo ben chiaro e ben evidente due cose che ehm è un pilastro la copertura vaccinale è un pilastro fondamentale della sanità pubblica e rappresenta direi il lo strumento che ha un maggior rapporto costo beneficio e per quanto che riguarda tutti e soprattutto per le malattie evitabili soprattutto per le persone di cui abbiamo parlato oggi per l'innovazione vaccinale per la possibilità di poter fare una medicina personalizzata anche con i vaccini di cui abbiamo sentito per fare in modo che quella proprietà e quella capacità di riuscire attraverso e questo è bene è un bene davvero che le comunità scientifiche siano sempre di più riconosciute anche come interlocutori primari oltre al mondo delle associazioni di cui spesso abbiamo io ne ho usufruito ehm per consentire davvero di di fare in modo che l'Italia superi purtroppo i gap che abbiamo ancora adesso sulle coperture eh ricordo allora la battaglia del duemila e diciassette che cosa allora parlavamo di vaccinazione in età pediatrica ci era costato anche in termini quasi di protezione personale nostra per quello che abbiamo vissuto però io credo che al di là di questo una eh un investimento maggiore il anche per quel che riguarda ehm l'innovazione per quello che riguarda tu che ho alcuni temi in questo breve tempo che mi mi è stato dato perché molte suggestioni mi sono state particolarmente utili vado e ne tocco alcune la prima giustamente prima si parlava della messa in rete dei laboratori di microbiologia e delle reti di sorveglianza questo è stato una delle richieste degli emendamenti che abbiamo fatto che ho proposto ancora credo se non ricordo male le cura Italia perché solo e grazie anche attraverso questo noi riusciamo ad avere quel database che ci consente innanzitutto di riuscire ad arrivare poi a quella individuazione e poi personalizzazione e poi realizzazione oltre al sostegno nell'investimento della ricerca che eh il piano nazionale di ripresa e resilienza cuba un miliardo e sei a diverse voci peraltro che però come dire ha bisogno di sicuramente di maggior eh seconda questione la poca ehm la poca capacità di aderire alle campagne di vaccinazione eh e quali sono le strategie giustamente avete sottolineato la necessità della chiamata in causa della della medicina specialistica di dove i pazienti particolarmente dagli oncologici ai trapiantati agli immunodepressi ai pensate anche solo i pazienti diabetici hanno la possibilità di avere dei punti di riferimento nel nel nei luoghi e negli ospedali di 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 come riferimento eh io insisto anch'io molto come diceva anche il dottor Iaraci che ha a mio giudizio anche un ruolo ehm un ruolo nei medici di medicina generale guardate ci sono delle azioni che sono dotate peraltro di evidenza di efficacia per aumentare le coperture vaccinale la prima riguarda la chiamata attiva la vaccinazione ma che deve andare con eh quella quella capacità che prima sentivo da dottor Iaraci anche di farne un programma regionale perché poi passa da lì un programma regionale che eh regionale che in in grado di individuare qual è eh il qual qual è la platea delle persone che dobbiamo arrivare alla chiamata diretta il sollecito di coloro che non si presentano e la valutazione delle attività svolte e l'altro punto che è stato reso evidente ehm in questa in questa evidenza di efficacia è anche il feedback da parte degli operatori dagli operatori sanitari c'è un punto molto importante guardate io insisto molto anche su queste parliamo troppo poco anche sul fascicolo sanitario elettronico sembra una parola misteriosa bene che siamo arrivati a trentadue milioni ma eh il tema vero è che quello dovrebbe essere dobbiamo raggiungerne sessanta di milioni e trecentomila cittadini italiani e quello deve essere uno strumento che consente di un'interazione tra medico paziente e il medico specialista anche rispetto alle prenotazioni e e all'accesso alla sanità un investimento che ancora tarda compreso quello della cartella clinica elettronica che tutti i medici specialisti di ospedale di ambulatorio dovrebbero avere e ehm soprattutto voglio anche fare un ultimo accenno al fatto che c'è la popolazione più fragile dal punto di vista socio economico non ha nessun sms non ha nessuna e sono quelli che maggiormente sono esposti alle complicanze che poi si hanno nel momento in cui non si aderiscono alle campagne vaccinali ha ragione il dottor Galli con il professor Galli quando diceva prima siamo stati fortunati perché paradossalmente perché restrizione utilizzo delle mascherine ha in qualche modo attenuato l'impatto non sufficiente della campagna di vaccinazione anti influenzale e se oggi noi abbiamo l'opportunità di avere la possibilità di vaccinarsi contro l'herpa e zoster l'ho provato sulla pelle e spero che davvero possiamo permetterci di risparmiarlo per le conseguenze che questo comporta a questa popolazione over sessantacinquenne che potrebbe avere un beneficio innanzitutto dal punto di vista della sua salute personale le vaccinazioni sono lo strumento per la copertura e la protezione della salute pubblica e eh peraltro non dobbiamo mai dimenticare gli studi ce lo dicono ormai in tutte le salse non parliamo più di sostenibilità del servizio sanitario nazionale perché la pandemia ha in qualche modo come dire assorbito un po' un po' come dire attenuato problemi che abbiamo affrontato all'inizio almeno della mia del mio arrivo a in in Parlamento ma noi sappiamo che ogni volta che investiamo in in vaccini noi abbiamo la possibilità di avere un maggior gettito di due euro per un euro in termini di beneficio fiscale a raggiungono poi sedici per la spesa pubblica un beneficio guardate c'è uno studio eh di del sacro cuore che dimostra che se fossimo in grado di arruolare novecentomila persone in più sulla vaccinazione antinfluenzale risparmieremmo quattrocentocinquanta cinque quattrocentocinquanta milioni ma non è che servono per tenerci in tasca si servono ancora per fare investimenti in sanità chiudo su un'ultimissima cosa davvero io ho finito perché io sono totalmente d'accordo e molto d'accordo il pn car il piano di vaccinazione e il piano di prevenzione devono essere un tutt'uno non possiamo in qualche modo fare in modo che trama e ordito non si incontrino noi sappiamo bene quanto l'investimento anche nel pn car abbia bisogno di arrivare a terra in modo efficiente soprattutto in modo efficace perché questo permetterebbe innanzitutto di poter vivere in condizioni di sicurezza negli ambienti ospedalieri di poter fare gli interventi e di poter vivere la condizione di degenza sappiamo tutti che cosa accade quando in un reparto abbiamo gli gli alert ecco io credo che eh migliore investimento in terzo in particolare della salute pubblica con la potenza dei vaccini e l'innovazione tecnologica non davvero insomma io credo che spero davvero mi auguro che questa sia una stagione diversa e soprattutto una pianificazione e una strategia importante anche da livello centrale grazie una stagione diversa come nelle sue parole di auspicio e anche di augurio per una politica di verifica e di controllo come lei ha sottolineato e una chiamata attiva alla vaccinazione di comun accordo anche con il piano regionale come appello sicuramente condiviso e allora noi adesso ringraziando all'onorevole carnevali ci abbiamo la conclusione della nostra tavola eh rotonda la prima sulle innovazioni vaccinali oltre il covid e diciannove con il secondo nostro relatore e ci ha raggiunto anche la ringraziamo davvero per essere qui con noi malgrado i numerosi impegni istituzionali parlamentari la senatrice Mariolina Castellone dodicissima commissione parlamentare sanità del senato della repubblica buongiorno bentrovata buongiorno buongiorno a tutti buongiorno Daniel grazie per essere con noi senatrice allora abbiamo ascoltato anche in i precedenti interventi anche dal professore Galli quanto sia strategico importante il ruolo delle ospedali nelle vaccinazioni del paziente fragile dell'anziano che è il focus oggi all'interno di questo nostro incontro con le speculazioni che ognuno può portare dalle diverse esperienze anche voi decisori politici sicuramente avrete tratto delle indicazioni importanti relativamente a un tema che fa parte non solo del nostro presente ma soprattutto del nostro futuro che indicazioni lei ne ha tratto io vorrei fare innanzitutto una premessa se mi permetti Daniel finalmente la sanità è tornata al centro dell'agenda politica questo lo dobbiamo dire perché veniamo da un decennio di continui tagli che hanno depauperato in particolare il servizio sanitario pubblico di infrastrutture di mezzi di risorse umane sono stati tagliati nell'ultimo decennio circa trentasette miliardi di euro adesso con questa pandemia siamo tornati ad investire ad oggi abbiamo investito quasi venti miliardi in sanità ed altri venti miliardi di investimenti quasi venti miliardi sono previsti all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza e io ogni volta che mi dicono quali sono i pilastri strategici dico sempre che il punto di partenza deve essere la prevenzione e nella prevenzione primaria chiaramente rientra appieno la profilassi vaccinale perché in medicina in generale l'arma più potente che abbiamo è quella di prevenire l'insorgenza delle malattie più che curare i sintomi e poi in particolare le complicanze quando si tratta soprattutto di di soggetti fragili. Allora da un punto di vista proprio di campagna di prevenzione risulta fondamentale anche riformare questo disegno della sanità che sarà anche il nostro sistema con un'educazione una sensibilizzazione ma qui il nostro focus è sugli adulti e i fragili quindi anche sugli anziani adulti fragili anziani quindi categorie ben precise in tal senso da che cosa siete chiamati anche voi decisori politici nel esaminare queste categorie e nel portare anche sempre una più massiva e concreta conoscenza divulgazione formazione sull'importanza delle campagne vaccinali. Io ritengo che il nostro ruolo fondamentale sia quello di ehm trasmettere innanzitutto fiducia ai nostri cittadini in questo momento l'adesione alla campagna vaccinale contro il coronavirus è molto alta ed è fondamentale mantenere una linea chiara di di comunicazione una trasparenza anche in quello che viene comunicato ai cittadini perché non possiamo permetterci di perdere questa eh eh questo grande senso di fiducia che in questo momento c'è nei confronti di un vaccino e in generale della prevenzione eh questo deve essere anche eh l'atteggiamento da diffondere per tutte le altre campagne vaccinali a partire dal vaccino dalla vaccinazione anti-influenzale che come ricordava il professor Galli ancora non ha raggiunto quei livelli di adesione che ci aspetteremmo soprattutto nei soggetti fragili nei pazienti più anziani qui però un ruolo fondamentale deve averlo certamente la medicina territoriale quindi non solo i medici di medicina generale ma quelle reti di cure primarie che noi stiamo strutturando all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza e che sono date quindi da tutti i medici che operano sul territorio in team multidisciplinari in equip multifunzionali perché è fondamentale che la presa in carico e ehm seguire i pazienti fragili non avvenga più solo in ospedale ma deve avvenire sempre più vicino al domicilio del paziente anche questo è un obiettivo importante e io direi è il perno della costruzione della nuova medicina che noi stiamo immaginando nel piano nazionale di ripresa e resilienza quindi una medicina che diventa sempre più una medicina di iniziativa che previene le malattie non una medicina di cura che cura solo le complicanze è una medicina che si avvicina sempre più al domicilio del paziente quando parliamo di prevenzione eh spesso facciamo anche appello all'utilizzo delle tecnologie alla telemedicina tutto quello che potrà essere utile qui però nel concetto di nuova medicina senatrice parliamo sì di piano di ripresa e di resilienza come lei dice ma in queste echippe multifunzionali che lei eh prefigura e ci sta eh descrivendo devono essere presenti in particolare oltre ai medici di medicina generale come abbiamo detto anche diverse figure specialistiche lei quale intende identificare come prioritarie in un paese che invecchia sempre più io penso ai geriatri assolutamente i geriatri gli internisti ma anche i radiologi ci sarà fondamentale spostare anche la parte della diagnostica dove è possibile sempre più a livello territoriale abbiamo visto già nella gestione di questa pandemia come sia stato cruciale a volte anche poter effettuare delle ecografie delle radiografie al domicilio del paziente quindi quella presa eh in carico che oggi avviene quasi esclusivamente in ospedale anche per i pazienti fragili e non solo gli anziani ma anche gli stessi ad esempio pazienti oncologici a volte devono fare eh moltissimi chilometri solo per sottoporsi a a trattamenti chemioterapici e noi invece dobbiamo fare in modo che anche questo tragitto diventi sempre più ridotto e e sia sempre più limitato per per rendere veramente la compliance alla terapia eh più più accettabile più sostenibile per un paziente già fragile di per sé. In conclusione senatrice il lavoro anche che ha illustrato il professor Galli è stato un lavoro per corti no? Su dati anche recenti delle ultime settimane. In queste corti abbiamo visto che le varie sezioni per anni sono davvero molto ben identificate quindi abbiamo pazienti dai sessanta ai settant'anni dai settanta agli ottant'anni da oltre per gli ottant'anni ecco come tutelare costoro con bene con con bisogni diversi e con necessità anche e aspirazioni eh diverse nel dettato costituzionale quindi dell'articolo trenta due che deve tutelare la salute per tutti i cittadini. Assolutamente c'è bisogno di piani terapeutici che siano sempre più individuali che siano divisi per fasce di rischio per fasce di popolazione questa è la medicina che noi dobbiamo immaginare una medicina sempre più personalizzata e certamente quello l'obiettivo eh in cui dobbiamo continuare ad investire. Grazie allora alla senatrice Marionina Castellone per eh la sua partecipazione la ringrazio e le auguro buon procedimento naturalmente se vuole restare con noi eh molto gradita la sua eh partecipazione ancora e comunque torneremo a trattare insieme anche di questi temi noi proseguiamo intanto con i nostri relatori di nuovo buon lavoro. Grazie. Eh noi proseguiamo infatti con i nostri eh relatori diamo infatti inizio ringraziando la senatrice Castellone e anche gli altri parlamentari che hanno partecipato a questo nostro incontro alla tavola rotonda vaccinazione nell'adulto le raccomandazioni della Simit e allora saluto i clinici per un punto di vista che qui è più medico specialistico eh rispetto a fino a quanto ho fatto ora eh saluto il presidente della Simit il dottor Mercello Tavio il professor Massimo Andreoni il professor Andrea Gori la dottoressa Silvia Nozza la professoressa Loredana Sarmati e la professoressa Laura Sticchi che animeranno questa nostra tavola rotonda e allora è presidente Tavio direttore malattie infettive ospedali riuniti di Ancona soprattutto qui presidente anche della società italiana di malattie infettive che ha promosso questa nostra importante occasione di confronto. Buongiorno intanto e bentrovato. Buongiorno lei e tutti. Allora abbiamo parlato del paziente adulto e eh di tutti quei pazienti quei soggetti affetti da fragilità derivanti da patologie croniche come quelle cardiovascolari o respiratorie piuttosto che diabete, insufficienza renale, tutti i temi che affronteremo proprio adesso in questo nostro approfondimento. Allora i vaccini diventano una sorta di strumento per una medicina di precisione presidente Tavio. Stiamo intanto vedendo alcune eh slide in sottofondo in sovraimpressione eh il significato di questo consensus promosso dalla simite a cui ha dato già un ampio risalto il professore Andreoni come possiamo da un punto di vista anche eh sempre più preciso eh contornarlo come possiamo precisarlo e focalizzarlo. Lei tra l'altro eh si è occupato all'interno di questo di questa materia di un'area relativa al paziente eh pneumologico. Sì, allora partiamo proprio dal professore Andreoni con eh i doverosi ringraziamenti della presidenza e della SIMI tutta per avere promosso questa iniziativa, avere fatto da anima e di e da corpo di questa iniziativa importante che è veramente un'iniziativa appropriata per una società scientifica, ovvero fare il punto su una materia per certi aspetti controversa e di estrema importanza. Se c'è qualcosa su cui la società scientifica si deve esprimere pubblicamente, prendere posizione e costituire un punto di riferimento, sono proprio tematiche come come queste. Le dirò che mi ha fatto molto piacere sentire eh da Gianni Rezza testualmente mi sono segnate le parole, il ruolo di SIMI come propulsore eh eh di iniziative che le istituzioni possono raccogliere eh diciamo principio che è stato anche eh sfiorato dai dai politici che sono intervenuti in particolare la senatrice Carnevali. Mi fa molto piacere questo perché c'è un bisogno estremo di stabilire dei rapporti più stretti tra le istituzioni e le società scientifiche, cioè le eh eh quegli organismi che in qualche modo trovano una mediazione al proprio interno sulle tante posizioni che è possibile assumere su un dato, una data problematica. Quindi anche questo mi sembra un punto importante e questa iniziativa eh eh sulle vaccinazioni dell'adulto credo che sia l'emblema di di come si possano incontrare istituzioni e società scientifiche. Una terza cosa che voglio dire a proposito della struttura di questo di questo lavoro che è stato fatto che mi sembra importante ovvero eh si è già detto prima ci sono le vaccinazioni dell'obbligo sulle quali nessuno discute riguardano il bambino, c'è un calendario vaccinale che ci invidia tutto il mondo, benissimo, ma c'è una vaccinazione dell'obbligo morale, tra virgolette, lo metto tra virgolette, che riguarda proprio l'adulto perché in questo caso essendo un obbligo morale è fondamentale convincere l'interlocutore. In questo senso sono state costruite proprio queste raccomandazioni da parte della semi che devono servire al medico accanto accanto al letto del paziente o davanti a lui in ambulatorio per eh discutere eh le ragioni della vaccinazione là dove non c'è un obbligo ma c'è un obbligo morale tra virgolette verso la società nel far circolare il meno possibile gli agenti patogeni e c'è una necessità di protezione del singolo che va sempre attentamente eh declinata perché le persone non dimentichiamoci partiamo da situazioni di in cui i novax hanno una voce molto forte e anche se adesso è molto attenuata dall'emergenza del covid in realtà molte vaccinazioni sono afflitte dalla eh diciamo dalla dal virus della chiamiamolo così del del novax e quindi la capacità di spiegare puntualmente il vantaggio della vaccinazione in ogni singola situazione è una cosa veramente veramente fondamentale. Quindi in questo senso come presidente della CIMIT sono particolarmente contento della struttura che è stata data a questo a questo lavoro che viene incontro alle esigenze del medico nel momento in cui si relaziona con il paziente. Per quanto riguarda la sua ultima diciamo domanda riguardo alla parte di cui mi sono occupato insieme agli altri quella del paziente pneumologico direi che se c'è un tipo di paziente che si può avvalere di un bel pacchetto di vaccinazioni è proprio il paziente pneumologico perché l'organo bersaglio della malattia da cui è afflitto che non è una malattia infettiva nella fattispecie è anche il bersaglio dei virus che si possono prevenire con con i vaccini quindi direi che è in qualche modo uno degli esempi emblematici di come i vaccini possano aiutare le persone in maniera molto molto concreta. Presidente Tavio perché il vaccino di cui abbiamo trattato prima sullo Zoster rappresenta un un medical needs un'esigenza assoluta? Beh diciamo che dovrei ripetere alcuni concetti che sono stati già enunciati ma in qualche modo va a colmare una lacuna che sembra piccola vista da fuori di fronte a una emergenza planetaria come il covid sembra piccola cosa lo Zoster e invece non è così per la sua estrema diffusione gran parte della popolazione è stata infettata prevalentemente in epoca infantile ma è un virus che rimane con noi tutta la vita che si può risvegliare che quando si risveglia causa problemi enormi dal punto di vista della 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 gestione di queste riaccensioni quindi ecco perché è un problema che andava affrontato e indubbiamente queste ne parlava anche Rezza all'inizio no tutto quello che i vaccini non non restano uguali a se stessi nel tempo nei secoli eterni subiscono anche loro delle degli affinamenti delle perfezionamenti tecnologici quindi questo questo sviluppo sicuramente è di grande beneficio nella lotta al allo Zoster sia in termini di di efficacia che di capacità di intervenire poi in popolazioni che si sono già infette per impedire il risveglio della malattia quindi direi che in estrema sintesi queste sono alcune delle caratteristiche che rendono particolarmente pregevole i strumenti che abbiamo a disposizione nello specifico contro lo Zoster quindi vedremo allora l'Italia Spagna e Gran Bretagna sono i paesi in Europa che potranno giovarsi anche di questo vaccino professora Andreoni intanto grazie Presidente Tavio naturalmente resti con noi e sollecito anche tutti i nostri ascoltatori a inviare domande nella posita sezione question and answer che stiamo raccogliendo per porle ai nostri clinici e ai nostri specialisti professora Andreoni proprio con lei vorrei affrontare il tema della fragilità dell'anziano in particolare le raccomandazioni sugli over sessantacinque quali possono essere quindi i punti fondamentali in relazione anche ad alcune comorbosità che vi sono pensiamo quando parliamo di anziani alle infezioni come diceva il presidente Tavio respiratorie a delle infezioni urinarie vi sono tipiche patologie relative a quell'età allora con lei tra l'altro è arrivata anche una domanda che vorrei vedere insieme professore sì ma diciamo il covid ha fatto una scoperta diciamo che per noi era un dato di fatto certo cioè che le persone più anziane sono le persone più fragili cioè sono le persone che possono morire con più facilità dovuto al covid dico perché è un concetto per noi invece acquisito precedentemente perché noi sappiamo che l'età estreme della vita quindi oggi parliamo dell'anziano sono le persone che quando vanno incontro ad alcune malattie infettive le malattie infettive più gravi ma alcune volte addirittura anche con malattie infettive semplici come può essere una semplice infezione delle basse vie urinarie possono avere dei quadri estremamente gravi e quindi andare incontro a morte e allora evidentemente è una popolazione che deve essere diciamo sottoposta attenzionata da quella che può e deve essere una strategia di prevenzione come la vaccinazione quindi non è certamente strano che noi ci siamo focalizzati in modo particolare su queste persone perché sono le persone che noi vediamo morire appunto di polmorite morire di sepsi per diciamo infezioni che partono dai siti più diversi del corpo umano e come dimostra la slide che noi vediamo di sottofondo nel paziente anziano soprattutto abbiamo riconosciuto alcune patologie che possono e che devono essere prevenute perché ovviamente l'influenza nella malattia pneumococcica lo sono ma oggi parliamo in maniera specifica di erpe zoster beh diciamo questo ehm lo abbiamo detto l'abbiamo discusso ma si ritiene che circa il novanta per cento della popolazione sia infettata dal virus varicella zoster e che hanno l'ottanta per cento circa della popolazione possa andare incontro nella sua vita ad almeno una ricorrenza da erpe zoster allora di fronte a questi numeri che evidentemente si riverberano in modo specifico particolare nella nella terza età cioè nell'età più avanzata evidentemente sono numeri sufficienti a capire qual è la portata di avere un vaccino sicuro un vaccino che permette anche una immunità di lunga durata e che quindi non richiede automaticamente delle dei richiami ravvicinati ecco è un vaccino che evidentemente entra in modo prepotente in quello che è il calendario vaccinale del soggetto anziano ed è stato devo dire anche un pochino la spinta che ci ha spinto su questa eh diciamo volontà di un position paper perché è vero che abbiamo pensato molto ai pazienti immunodepressi è vero che abbiamo pensato molto alle patologie che adesso i miei colleghi andranno a declinare però certamente il primo pensiero è nato proprio nel paziente anziano e devo dire è nato proprio per quello che stavamo osservando da dove ero partito quindi dall'idea che stiamo vedendo oggi che tocchiamo oggi con mano di come il paziente anziano di fronte a un fatto pandemico epidemico sia particolarmente sensibile però ricordo a tutti è che sono i pazienti per cui noi ogni anno proponiamo la campagna vaccinale per l'influenza cioè la fragilità di questi pazienti noi l'abbiamo sempre sottolineata e in qualsiasi circostanza l'abbiamo ricordata diciamo e quindi credo che sia la popolazione nella quale sulla quale oltretutto diciamo e chiudo evidentemente si è investito anche di più no perché la popolazione anziana evidentemente è quella che ha tratto maggior beneficio di quelli che sono stati gli interventi di sanità pubblica e quindi vedere perdere una persona che è stata ben curata dalla sanità ed è stata portata ad una età avanzata per una malattia per conto prevedibile prevedibile prevenibile oppure vedere una persona con grandi sofferenze come l'herpes zoster può dare ricordo a tutti poi che l'herpes zoster non è solo nevralgia post zosteriana ma l'herpes zoster ha una serie di complicanze che possono essere anche estremamente gravi addirittura mortali ecco devo dire che di fronte a questo evidentemente proporre un calendario per questa tipologia dei pazienti ci è sembrato un obbligo etico deontologico e civico professore nel frattempo stanno affluendo anche alcune domande una gliela giro subito per un paziente ultra 80 anni ci chiedono affetto dalla sindrome di chiamberre come ci si deve comportare con i vaccini in particolare ma guardi per i vaccini diciamo in senso generale covid e altri c'è scritto perfetto allora voglio dire non ci sono controindicazioni particolari le controindicazioni vere e uniche sono quelle di avere un'ipersensibilità a quelli che sono gli eccipienti del vaccino capire se un allergico non allergico a un eccipiente del vaccino è abbastanza complicato normalmente una persona che ha fatto vaccinazione nella propria vita può andare tranquillamente a vaccinarsi certo la malattia di chiamberre una malattia in realtà è una sindrome no quindi nel concetto di sindrome c'è la possibile enziologia variegata quindi sono quelle malattie che possono riconoscere diverse cause tra le diverse cause c'è anche la vaccinazione diciamo quindi bisognerebbe conoscere qual è stata la causa che ha determinato la sindrome di chiamberre in questa persona se non è stata una vaccinazione che come dicevo la può determinare io direi che non ha nessuna particolare controindicazione ad essere vaccinato per diciamo il covid e per altre malattie grazie professore andreoni introduco allora il professore andrea gori direttore unità operativa complessa complessa di malattie infettive fondazioni IRCCSK grande ospedale maggiore polisilico di milano buongiorno ben ritrovato professor gori ci sente vediamo se attiva il microfono il professor gori professore allora intanto che la ecco mi eccolo eccolo ecco eccolo qua buongiorno per trovare il microfono ecco ben ritrovato intanto e grazie per essere con noi professore buongiorno senta con lei volevamo approfondire alcuni temi eh ne abbiamo accennato all'inizio del nostro eh incontro di quest'oggi abbiamo parlato di fragilità di pazienti fragili e di pazienti immunocompromessi con lei volevamo analizzare da un punto di vista eh pratico e anche naturalmente sulla base scientifica chi siano costoro quali sono se godano meno di vantaggi per esempio questa eh categoria può fare tutti i vaccini o soltanto alcuni e in particolare c'è un un tema che è fondamentale affrontare quanto sia importante anche scrinare i pazienti immunocompromessi che aiuta a dire tante tante domande eh la i pazienti fragili sono eh ne abbiamo visto tutti ne hanno parlato eh sono i pazienti che sono maggiormente esposti alle infezioni tra questi immunocompromessi probabilmente sono eh i più fragili all'interno dei pazienti fragili pazienti che hanno una compromissione del sistema immunitario e che quindi sono maggiormente esposti rispetto ad altri pazienti allo sviluppo di malattie tra questi eh ne abbiamo di diverse di diverse entità cioè c'è un ampio spazio di pazienti immunocompromessi che che si differenzia molto a seconda di quella che è l'origine dell'immunodepressione e questo ricalca anche un po' con gli aspetti di multidisciplinarità di cui si è parlato prima possono essere i pazienti HIV positivi o i pazienti oncologici i pazienti reumatologici i pazienti dermatologici cioè tutti quei pazienti che in qualche modo per le loro patologie vanno incontro a terapie immunosoppressive da una parte oppure quei pazienti che hanno delle patologie che interagiscono e influiscono in maniera estremamente negativa sul sistema immunitario come detto su questi pazienti occorre eh occorre ottimizzare quelli che sono i processi di prevenzione per cui sono sicuramente i pazienti che eh più di altri probabilmente hanno bisogno di schemi eh vaccinali ben precisi eh mi ricollego all'ultima domanda che era eh l'importanza di pensare a questi pazienti all'interno di un loro programma pazienti che devono iniziare una chemioterapia hanno momenti in cui l'immunosopressione non è particolarmente marcata e momenti in cui invece l'immunosopressione molto profonda allora in questo caso se noi eh utilizziamo il timing corretto per la vaccinazione riusciamo ad avere eh a ottimizzare l'effetto della vaccinazione quindi è importante come nell'approccio multidisciplinare si arrivi a programmare delle schede vaccinali che siano ottimali per quella che è l'efficacia del vaccino rispetto invece eh a quello che è la possibilità di somministrare a questi pazienti tutte le tipologie di vaccino anche qui c'è da fare una specifica e questi pazienti più delle volte soprattutto quelli che hanno un'immunità estremamente compromessa non possono eh non a questi pazienti non possono essere somministrati vaccini vivi attenuati si è parlato dello zoster lo zoster è uno degli esempi classici dove finora abbiamo avuto a disposizione eh un vaccino un vaccino vivo attenuato con il disponibilità del nuovo vaccino questo problema viene a a superarsi quindi per assurdo per i vaccini vivi attenuati questi non possono essere dati alle persone che particolarmente gioverebbero dall'avere invece una una vaccinazione efficace quindi attenzione anche alle tipologie di vaccino non tutti i vaccini possono essere eh utilizzati professore ma eh relativamente proprio agli approcci multidisciplinari e agli schemi vaccinali precisi di cui lei faceva cenno per ad esempio un paziente oncologico quali tempistiche vanno eh ipotizzate per esempio chi è sottoposto a chemioterapia come occorre comportarsi? Per i pazienti oncologici così come i pazienti che vanno incontro a terapie con farmaci biologici immunosoppressori o a terapie esteroide eh noi sappiamo eh quando questi pazienti devono iniziare la la terapia allora prima di iniziare la chemioterapia questo sarebbe il timing ideale per andare in prima battuta a scrinare questi pazienti per capire quali tipi di infezioni nel corso della loro vita sono andati incontro e dall'altra per effettuare tutte le vaccinazioni le tabelle vaccinali prima di iniziare la chemioterapia qualora questo non sia possibile bisogna trovare quel momento tra un ciclo di chemioterapia e l'altra che renda il paziente meno immunocompromesso e quindi maggiormente in grado di elicitare una risposta immunitaria allo stimolo vaccinale. Grazie professore Gori resti con noi se le fosse possibile proseguiamo e ci avviamo la conclusione di questa tavola rotonda con tre specialisti tre cliniche la prima delle quali è la dottoressa Silvia Nozza infettivologo ospedale San Raffaele di Milano buongiorno ben trovata buongiorno buongiorno a tutti. Allora proprio delle domande sono particolarmente pertinenti per la sua riflessione ci chiedono soprattutto il vaccino Zoster nei pazienti HIV come orientarsi allora ci sono delle vaccinazioni controindicate nelle persone per esempio con fette da virus HIV assolutamente sì buongiorno a tutti. Sottolineo prima come le vaccinazioni nel paziente con infezione di HIV siano raccomandate anche in fasce di età diverse rispetto a quelle della popolazione generale. Faccio l'esempio dell'antimeningococcica B per esempio che è indicata in tutte le età del paziente seropositivo così come l'antipneumococcica perché sono infezioni che possono dare una maggiore complicanza anche in persone seropositive in trattamento con CD4 alti. Per quanto riguarda lo stesso allo stesso modo va a collocarsi la vaccinazione anti Zoster perché la persona seropositiva è in generale considerata immunocompromessa quindi è indicata la vaccinazione. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni controindicate sono soltanto in una piccola nicchia ormai di persone cioè le persone con CD4 minori di 200 che sono poche grazie all'efficacia della terapia antiretrovirale come sappiamo quindi si collocano sostanzialmente in due fasce, quelle che sono immunologiche a non rispondere oppure quelli che hanno avuto una diagnosi in una fase avanzata dell'infezione ma che ormai spesso recuperano il numero di CD4 e sono vaccini che sono di fatto vaccini di vietto in uati. Faccio l'esempio della febbre gialla o dell'antimorbillo insomma. Senta dottoressa in particolare ci sono dei vaccini anche anti SARS-CoV-2 di prima scelta nelle persone con infezione d'HIV? Sappiamo ben poco sull'efficacia dei vaccini anti SARS-CoV-2 nelle persone con infezione d'HIV. Dal punto di vista generale è ovviamente altamente raccomandata la vaccinazione. Sappiamo come c'è una categoria di persone che sono quelle considerate estremamente fragili cioè sempre con CD4 minori di 200 e con la presenza di comorbidità importanti soprattutto cardiovascolari, epatiche e neoplastiche a cui è strettamente raccomandata la vaccinazione con un vaccino mRNA. Per quanto riguarda invece l'altra fascia di soggetti con CD4 maggiore di 200 non si sa bene ancora la risposta per cui cautelativamente molti centrospedalieri stanno comunque utilizzando i vaccini a mRNA. Non c'è comunque, questo è importante da dire, nessuna controindicazione dal punto di vista della safety per tutti i tipi di vaccinazioni nei nostri soggetti seropositivi, quindi anche per quanto riguarda i vaccini con la devono virus. Grazie dottoressa Nozza, sollecito naturalmente i nostri medici, naturalmente tutti coloro che sono all'ascolta, anche i colleghi giornalisti, se volessero poter inviare i quesiti che noi proporremo ai nostri clinici. Saluto la professoressa Loredana Sarmati, unità operativa complessa malattie infettive Tor Vergata, Roma. Buongiorno e ben trovata professoressa Sarmati. Buongiorno, ciao Dani. Buongiorno. Con lei parliamo anche di gravidanza e vaccini, quali sono sicurezze e indicazioni su questo tema di cui lei ha curato? Sì, beh la gravidanza sicuramente non è una condizione di malattia però è una condizione di diciamo relativa fragilità sia della donna, di due soggetti, la donna e il bambino, perché la donna in gravidanza poi ha un assetto immunologico particolare proprio perché poi a un certo punto contiene un altro individuo quindi diciamo diventa immunotollerante e il bambino alla nascita in realtà immunologicamente non ha proprio nessuna risposta nei confronti agli agenti effettivi quindi il neonato si sa che è un po' più fragile. E anche qui è un po' come nelle categorie che sono state già elencate più avanti c'è un discorso di limitazioni di alcuni vaccini che sono sostanzialmente specie nella gravidanza i vaccini che sono costituiti da agenti effettivi attenuati ma ancora vitali perché chiaramente l'agente effettivo potrebbe passare la barriera e quindi infettare il bambino. Tuttavia la gravidanza non è solo il momento della gravidanza ma ha anche periodi precedenti e la gravidanza è successivi e allora una donna che magari ha in aria di voler fare un figlio potrebbe invece scrinarsi verso le patologie che sono poi quelle esantematiche, la rosoria, il morbillo, la varicella verso cui poi sono prodotti quei vaccini a virus attenuato e in realtà vaccinarsi prima così da diciamo da rendersi protetta durante il periodo della gravidanza che invece è un periodo in cui poi i vaccini a virus attenuati non si possono fare. Quindi in tal senso in questo clima di fragilità quali indicazioni ci sono per le donne in gravidanza? Allora diciamo l'indicazione in una donna che volesse intraprendere una gravidanza è proprio quella di considerare la gravidanza come un momento particolare perché non riguarda solo lei ma riguarda anche il bambino che poi nascerà e che porterà in grembo per un periodo lungo e quindi c'è un momento in cui se non efficacemente protetta lei stessa corre dei disti perché stranamente ma in gravidanza appunto per questa immunotolleranza poi la donna può fare in occasione anche di malattie banali come l'influenza per dire patologie più gravi. Per dire siamo in epoca covid e si sa che il covid è preso in gravidanza insomma corre la donna in gravidanza con il covid corre qualche rischio in più che non è fuori dall'infezione stessa quindi la gravidanza in sé è un momento delicato diciamo da un punto di vista infettivo sia per la mamma che per il bambino e quindi abbiamo dei limiti a usare alcuni vaccini ma altri li possiamo usare con finalità di protezione della mamma tipo il vaccino per l'influenza praticamente è possibile farlo per tutta la gravidanza e alcuni altri vaccini che non sono che diciamo che contengono degli antigeni degli stimoli non infettanti che sono i tetano l'apertosse che proteggerebbe il bambino possa essere fatti con la finalità poi in realtà di passare quelle immunoglobuli materne al prodotto del concedimento e quindi rendere il neonato in quei primi tre mesi quando è fuori dalle vaccinazioni in realtà protetto. tra l'altro proprio in queste scorse ore abbiamo avuto un esempio di una gestante che ha dato la luce prima del tempo circa sono nove e dieci settimane eh da quanto hanno riportato anche i colleghi un un bimbo che pesa poco più di un chilo e lo hanno fatto per salvare naturalmente sia il bambino perché la mamma doveva essendo affetta da covid affrontare un certo tipo di terapie quindi un tema quanto mai questo attuale grazie professoressa Sarmati intanto anche per questo contributo resti con noi perché cerchiamo di fare poi una resumo di tutto quello che ci siamo detti intanto introduco la professoressa Laura Sticchi dipartimento scienza della salute università degli studi Genova Policlinico San Martino ben trovata grazie per essere con noi professoressa. Buongiorno a lei buongiorno a tutti. Allora perché sono importanti le vaccinazioni nei pazienti anche con malattie renale e epatica cronica ecco lei parliamo anche delle della ragione delle vaccinazioni nei pazienti con epatopatie. Sì in generale un po' come è già emerso durante questa tavola rotonda le vaccinazioni rappresentano uno strumento cruciale nella gestione dei pazienti con malattia cronica magari anche in trattamento con immunosopressori quindi incline infezioni che potrebbero aggravare il loro quadro clinico di base. Ad esempio le infezioni sono riconosciute come una delle cause più comuni di ospedalizzazione di morte nei pazienti con malattia eh renale cronica in stadio avanzato dopo vabbè la malattia cardiovascolare che in questi pazienti è la più importante così come dalla letteratura sappiamo che rispetto alla popolazione generale eh nei pazienti in dialisi la mortalità correlata a complicanze settiche è di cento trecento volte superiore quindi perché è importante vaccinare perché eh anche qui con il supporto ormai dei dei dati scientifici della letteratura scientifica sappiamo che la vaccinazione contro l'epatite B ha migliorato il profilo di sopravvivenza nei pazienti in dialisi e anche la stessa vaccinazione antinfluenzale che è già stata citata più volte oggi anche nei suoi limiti relativamente al profilo di efficacia nei pazienti in dialisi o con insufficienza renale avanzata in grado di ridurre le pulmonite di influenza l'insufficienza respiratoria l'adegenza nelle terapie intensive anche i pazienti con eh malattia epatica cronica mi riferisco soprattutto ai pazienti con cirrosi con neoprasia epatobiliari i pazienti candidati a trappianto di fegato o in terapia immunosoppressiva dopo trappianto ebbene sono più vulnerabili di per sé alle infezioni anche se poi ovviamente il rischio individuale eh varia e dipende chiaramente dalle dalle ziologia di base della malattia epatica dall'eventuale presenza di altre comorbosità di eventuali trattamenti e dal livello di eh scompenso epatico c'è un punto importante secondo me da sottolineare e cioè che la capacità di rispondere alle vaccinazioni in questi pazienti varia con il grado di scompenso epatico e di conseguenza i mh pazienti con un quadro clinico più grave in realtà e che quindi necessiterebbero maggiormente delle delle vaccinazioni in realtà hanno meno probabilità meno chance di rispondere all'immunizzazione quindi di fatto il percorso vaccinale dovrebbe iniziare prima di un'eventuale immunosopressione programmata o comunque prima dell'inizio della fibrosi avanzata e della cirrosi laddove questo sia possibile ovviamente e questo discorso vale anche per i pazienti in stato avanzato di malattia renale cronica quindi diciamo che la prevenzione vaccinale indubbiamente rappresenta una parte essenziale eh dei pazienti nella gestione dei pazienti cronici e poiché l'efficacia vaccinale varia con il grado di malattia e i pazienti con un quadro clinico più grave rispondono meno efficacemente è importante eh promuovere la vaccinazione il prima possibile o comunque all'inizio nelle nelle fasi iniziali del corso della malattia di base. Quindi fermo restando il criterio temporale a cui lei fa riferimento qual è la strategia migliore che lei intravede per sensibilizzare e raggiungere questi pazienti fragili cui facciamo scendere con lei? Guarda in questo senso noi abbiamo un documento di riferimento che il piano nazionale in prevenzione vaccinale questo stabilisce criteri uniformi e un'offerta comune su tutto il territorio nazionale e segnando poi ovviamente alle regioni in compito di implementare l'offerta locale. Eh introduttivamente il professor Rezza ricordava che indubbiamente l'attuale versione quella che è stata prorogata fino alla fine di quest'anno è un'offerta piuttosto generosa che coinvolge tutte le età della vita non si limita più alle età evolutive e se avete presente lo schema del documento in fondo vedrete che c'è una colonna dedicata alle vaccinazioni nei pazienti a rischio. Questo non vuol dire che precedentemente ovviamente non venissero considerate le vaccinazioni nei pazienti a rischio ma indubbiamente questo diciamo ultima versione quella attualmente vigente eh dedica maggior spazio maggior dignità. Poi però le raccomandazioni del ministero devono eh tradursi in un'offerta contestualizzata nelle varie realtà. Noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere questi pazienti ma questi pazienti devono essere accompagnati all'interno del sistema. Ecco perché credo che eh la strategia più importante sia l'attivazione di canali di comunicazione tra eh gli operatori di servizi vaccinali e dei eh degli specialisti che sono a più stretto contatto con il paziente di cui poi hanno chiaramente il rapporto eh fiduciale. Questo non soltanto ovviamente per sensibilizzare e raggiungere il paziente ma anche soprattutto per definire congiuntamente con lo specialista il percorso vaccinale più adatto per quel paziente. Come giustamente sottolineava prima di me il professor Gori sono tutti percorsi individualizzati perché la vaccinazione sta diventando uno strumento sempre più disegnato su misura ecco e e quindi credo davvero che sia fondamentale definire dei percorsi assistenziali un po' con il coinvolgimento dei centri vaccinali dei eh dei centri di riferimento di diagnosi e cura di questi pazienti e della medicina generale ma nell'ambito di una collaborazione che sia strutturata oltre che ovviamente trasversale e multidisciplinare. Grazie dottoressa Sticchi, professoressa Sticchi. Allora schemi vaccinali precisi, approcci multidisciplinari, anche percorsi assistenziali individualizzati come nel vostro appello eh attraverso anche il ruolo strategico dei centri vaccinali con eh il coinvolgimento anche della medicina eh generale che possa naturalmente fornire un contributo che è fondamentale. Vorrei coinvolgere, ovviandoci alla conclusione, il presidente della CIMET Tavio e il professore Andreoni, direttore scientifico della CIMET eh relativamente a un tema che se vogliamo può anche essere eh sentito e a cui il presidente Tavio prima ha accennato. Vale a dire, noi sappiamo che la scienza può essere sì imperfetta ma certamente eh la diffusione a volte come reale minaccia sul web eh del negazionismo, di notizie non vere che determinano anche un clima a volte di incertezza in chi non ha eh conoscenza del tema e fa sì che ci siano atteggiamenti che sfidano davvero la razionalità e la modernità per negare la scienza. Ora la scienza può essere anche imperfetta ma occorre preservarla e puntare quindi sull'educazione, sulla prevenzione e sulla cultura vaccinale in tal senso. Vorrei una riflessione in conclusione proprio del professore del del presidente Tavio e del professore Andreoni su questo. Quindi è una sfida questa vera e propria per poter garantire poi le condizioni di sicurezza, di salute e di tutti noi, di tutti i singoli e quindi di tutta la comunità allargata come quella dei pazienti e pazienti fragili in particolare. Presidente Tavio. Allora, credo che nella sua domanda ci sia già una parte sostanziosa di risposta, ovvero il negazionismo è un virus e come tutti i virus subisce l'attacco di un vaccino e fuori dalla metafora il vaccino che può combattere il virus del negazionismo si chiama si chiama cultura scientifica. È un paese, il nostro, che ha bisogno di una grande e maggiore diffusione di cultura scientifica per poter combattere in maniera efficace il negazionismo nelle sue varie forme. Perché anche l'indifferenza alle problematiche sanitarie, a mio parere, è una forma di negazionismo, la più elementare, la più sprovveduta, ma abbiamo bisogno di interessare le persone, la società civile alle problematiche scientifiche e questa è una missione che io sento con particolare importanza. La società scientifica deve farsi carico di questa problematica, cioè di essere capace di spiegarsi alle persone che non hanno una cultura specifica nel campo. Quindi il tema della comunicazione, soprattutto la comunicazione che veicoliamo noi addetti ai lavori, deve essere una comunicazione misurata, ponderata, in qualche modo anche condivisa al nostro interno per poter raggiungere l'obiettivo di eradicare i negazionismi in tutte le loro varie forme. Aggiungo solo che la scienza ha una grandissima qualità. Quando si raggiunge un obiettivo scientifico, si raggiunge un risultato scientifico, diventa un bene che si riverbera su tutti. Questo bisognerebbe spiegare alle persone, che se si aderisce ai protocolli scientifici, ci si informa, si fa cultura scientifica, è un beneficio che va per tutti. La scienza è veramente una delle forme di democrazia più alta che conosciamo. Quindi cultura scientifica, professore Andreoni, secondo questo appello anche del presidente Tavio, volta a sottolineare come anche questo consensus sia una forma di cultura scientifica senza puntare mai all'allarmismo, ma con una coscienza di quello che si va a dire anche a persone che non siano addetti ai lavori. Sì, io direi che educazione scientifica, certo, fondamentale, molti di noi, anche voi dei media, vi dovete interrogare perché evidentemente non siamo stati in grado di trasmetterla nel modo corretto e giusto, ma direi che l'altra grande faccia della medaglia è l'educazione civica, se mi permette, perché certamente diciamo la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia della salute è una educazione civica che evidentemente è mancata in questi ultimi anni. Io ricordo che era una materia di insegnamento, so che è tornata ad essere adesso una materia di insegnamento, certo, lascia sempre perplesso quando in Italia si fanno questo tipo di scelte in seguito a degli eventi, diciamo, catastrofici come può essere appunto l'esigenza di tornare all'educazione civica quando si parla successivamente ad una pandemia o nel corso di una pandemia, no? Però credo che sia l'altro grande argomento che noi ci dobbiamo porre, perché voglio dire il vivere in una società, il vivere comune richiede degli obblighi da parte di tutti quanti noi, sono degli obblighi che possibilmente devono essere spiegati, devono essere compresi, ma che comunque sono degli obblighi. Noi abbiamo vissuto questa grande discussione che c'è stata addirittura nel mondo sanitario, se si debbano vaccinare obbligatoriamente oppure no, che è un qualcosa di inascoltabile alle orecchie di chi fa parte del mondo sanitario, perché dovrebbe essere un obbligo sancito, diciamo, da quello che è la deontologia e l'etica della persona, diciamo, da quello che è l'educazione civica della persona. Ecco, credo che questo sia un altro grande argomento che dovremmo imparare a trattare maggiormente con le persone e far capire che chi vive all'interno di una società ha degli obblighi e che questo non è una privazione della democrazia, ma è il massimo dell'esplicitarsi della democrazia, perché la democrazia vuol dire vivere tutti quanti insieme nel modo migliore e permettendo agli altri e garantendo agli altri la migliore salute, la migliore convivenza, il miglior modo di poter vivere appunto all'interno di una comunità. Grazie, professore Andreoni. Allora, l'educazione civica, deontologia scientifica, anche come ulteriori spunti sui quali poter riflettere anche dinanzi a quello che sono i temi che l'attualità ci propone e la cronaca quotidianamente. Abbiamo cercato quest'oggi quindi di parlare di prevenzione, di unità di intenti, di una scienza che ci propone davvero un progresso importante, grazie al quale possiamo considerare in un'ottica di salute globale di poter prendere in carico una categoria ampia come quella dei pazienti fragili, dei pazienti che abbiamo visto immunocompromissi, dei pazienti anziani, tante diverse sfaccettature di una stessa medaglia che abbiamo cercato di sviscerare insieme e di tutto questo io sono grato alla SIMIT, alla Società Italiana Malattie Infettive che quest'oggi quindi ha proposto questa consensus e supportata con l'organizzazione di Aristea e con il contributo non condizionato di GSK. Io vi ringrazio davvero, ringrazio i colleghi giornalisti, tutti coloro che si sono collegati quest'oggi, medici e tutti i vari stakeholder parlamentari, politici, decisori, rappresentanti di governo che hanno mandato anche messaggi a supporto di questa iniziativa. Vi ringrazio davvero per la vostra partecipazione e l'appuntamento è per una prossima occasione naturalmente per parlare di temi scientifici di alto valore. Buon procedimento a tutti e buona fine settimana. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a te. Buongiorno a tutti. Grazie.